Musica Oggi l'ultimo evento dedicato ai bambini organizzato dalla Proloco di Quornier in occasione del Carnevale di quest'anno Sì, oggi è la giornata conclusiva del nostro Carnevale, avevamo cominciato domenica scorsa con la Mass Run Abbiamo continuato ieri con la bagna cauda in Trinità Oggi invece, stamattina, mezzogiorno, abbiamo dato i fagioli con le cotiche in piazza Abbiamo approfittato così per fare le tessere del 2016 in maniera tale da coinvolgere la popolazione È venuto un bel po' di gente, normalmente riusciremo a darne ancora oggi i genitori qui del Carnevale Oggi appunto Carnevale dei bambini, qua in Manifattura abbiamo un servizio bar Abbiamo i maghi, vediamo un bel po' di bambini urlanti Quindi questo è sempre un buon segno E arrivederci l'anno prossimo per il Carnevale Invece noi il prossimo nostro evento ovviamente sarà il torneo di maggio Se non facciamo qualcosa prima per la festa delle donne ma non è una cosa certa Non facciamo qualcosa per la festa delle donne ma non è un buon segno Non facciamo qualcosa per la festa delle donne ma non è un buon segno Non facciamo qualcosa per la festa delle donne ma non è un buon segno Non facciamo qualcosa per la festa delle donne ma non è un buon segno Non facciamo qualcosa per la festa delle donne ma non è un buon segno Grazie a tutti.